Questa sera all'Università per la terza età in programma una nuova conferenza. Sarà la dottoressa Ida Mura, direttrice dell'Istituto di Igiene dell'Università di Sassari, a parlare alla platea delle infezioni da Stafilo Cocco. L'appuntamento è dunque per questo pomeriggio alle 16.30 presso la sala dell'ex seminario in via Sassari. Ed ora apriamo la pagina sportiva, lo facciamo con il basket. L'anno nuovo è cominciato come era finito, quello vecchio, per la Mercedes Basket Alghero, con quella rimediata a Cagliari nel derby con la Virtus. Le sconfitte consecutive inanellate dalle bianco-azzurri sono ben 8. Un segnale positivo per il girone d'andata e sicuramente il netto miglioramento della formazione algherese, nonostante gli insuccessi delle ultime due partite. È stato il coach della Mercedes, Andrea Paccaria, a parlare ai nostri microfoni del momento della squadra e della prossima gara di campionato. Coach Paccaria è iniziato un nuovo anno per la Mercedes San Paolo Basket Alghero. Diciamo che è il proseguo della vecchia stagione. Comunque ci sono innanzitutto da segnalare 8 sconfitte consecutive. Pensiamo all'anno nuovo, piuttosto che al passato. Gennaio, inizio gennaio, quindi anno nuovo, quindi ricominciamo dalla partita di Cagliari. La partita di Cagliari è giocata secondo me con la maniera giusta, con l'atteggiamento giusto, con la giusta intensità, con la giusta energia. Sfuggita a poche manciate di secondi dalla fine, però fondamentalmente è bene. Ripeto, come ho già avuto occasione di sottolineare, mi è sembrata una squadra in salute e di buon umore. Adesso chiaramente comincia un girone di ritorno, soprattutto con questo primo mese, terribile dal punto di vista dell'importanza e dove dobbiamo assolutamente riuscire a risolvere i nostri problemi di classifica. Che cosa è successo secondo lei che comunque il tecnico di questa squadra alla fine, 8 in successi consecutivi, sono un campanello d'allarme? Più che un campanello d'allarme? Ma al di là della quantità delle partite perse, che sicuramente come molti tuoi colleghi mi fanno notare sono tante, c'è anche un problema legato proprio al calendario, cioè il fatto di giocare con le prime 6-7 squadre della classifica evidentemente comporta una gerarchia di valori che poi riscontriamo leggendo la classifica stessa. L'unica partita secondo me fuori dallo script è quella di Cervia e probabilmente la partita, la stupidaggine in casa con Bolzano. Il resto fa parte del gioco. Milano, Vigarano, San Martino sono evidentemente delle squadre più forti. Quindi è da condannare sicuramente l'atteggiamento un po' remissivo con cui abbiamo affrontato quelle partite. Il risultato era abbastanza scritto e abbastanza segnato. Bene la partita di Muggia, bene l'intervallo della partita, fino all'intervallo della partita di Udine dove si fece male Ina e il resto mi pare sembra assolutamente normale. Adesso avete un impegno casalingo? Adesso abbiamo uno spareggio più che un impegno. È uno spareggio secco. La partita con Torino diventa un bivio delle nostre aspirazioni e del nostro campionato che va affrontato nella maniera corretta così come secondo me stanno facendo in questo momento.